Ok, questo è Kain Quasar. Adesso partiremo con un esempio su una semplice acquisizione forense, per dimostrare appunto come semplicemente si possa acquisire un disco con solo l'uso del mouse grazie a interfacce grafiche come Mounted. Andiamo subito a cliccare su Mounted con il tasto sinistro del mouse e vediamo i dispositivi che sono collegati. Allora, il nostro dispositivo da duplicare è questa fantastica chiavetta da appena 250 MB su per giù e la copieremo su una chiavetta vuota da 2 GB che si chiama Kain 3.0 QL, una fantasia eccezionale. E quindi faremo la copia forense di questa Plexa su questa. Possiamo vedere quindi come messa da situazione. Se vogliamo fare una veloce anteprima di che cosa c'è sulla chiavetta Lexar, anche se non sarebbe necessaria nell'operazione di acquisizione forense, basta cliccare, vediamo che la policy di Red Only con tutti i blocchi e possiamo vedere che cosa c'è su questa chiavetta. Però a noi non interessa. A questo punto la smontiamo, vedete che è stata montata in Red Only, facciamo ok, ecco che è sparita. Cambiamo la policy del Mounted, da adesso in poi tutto ciò che montiamo diventa riscrivibile. Clicchiamo e vediamo chiaramente che non dobbiamo montare assolutamente questo Lexar perché è il nostro reperto originale, ma monteremo in scrittura la chiavetta di atterraggio, cioè quella dove andremo a fare la copia forense, il file immagine. Ecco qui, verifichiamo che sul disco non ci sia nulla, e infatti non c'è nulla. A questo punto possiamo lanciare un'interfaccia come GuyMajor, un esempio, lo allarghiamo, mettiamo tutto a schermo, che ci dice quali sono i dispositivi collegati. L'Exar è quello che dobbiamo acquisire. Possiamo guardare anche le info, ecco qui. Adesso procediamo all'acquisizione. Cerchiamo un formato, per esempio il DD Row. Andiamo a vedere dove vogliamo andare a copiare, a creare l'immagine, sdb1, lexar.withoutextension. Calcoliamo l'MD5, possiamo calcolare anche un doppio hash. Per velocità facciamo solo l'MD5 e la verifica dell'immagine dopo l'acquisizione. Facciamolo partire. Controlliamo mentre lui va avanti. Vediamo qui, ci sono i settori errati 0, quindi andiamo avanti. Vediamo un po' il tempo stimato. La velocità stimata è così bassa che non la stima. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. In effetti il programma sta andando avanti e sta creando il file immagine. Come vedete, avremmo potuto fare anche una copia DD, semplicemente con AIR, che è un'altra interfaccia grafica per le acquisizioni forensi dei dischi, che modestamente ho contribuito anch'io a un po' lo sviluppo, come potete vedere. E anche qui si potrebbe scegliere il disco di sorgente, il disco di destinazione e poi procedere con la copia. Stiamo al 43%, perché stiamo facendo chiaramente una copia anche di solo i 256 MB, che è piccolina, con una velocità imbarazzante, quella dell'USB2. questo per farvi vedere come non ho scritto una riga sulla console di terminale. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata un po' ai menu. Ci sono un po' di programmini, c'è questo qui che serve per fare le timeline, qualcosa di molto semplice per la visualizzazione dei documenti, il browser, qualcosa per masterizzare, cioè tutto ciò che ci può servire per portare avanti delle preview, delle anteprime o delle copie forensi. Quindi controllo dei file hash, editor di sadicimale e così via. Ecco qua che ha finito. Ha finito, dice che la verifica è andata bene, chiudiamo, andiamo a vedere qui, controlliamo il file info, ecco che ci dirà che è finito con successo, questo è il hash dell'originale e questo è del file immagine che coincidono perfettamente. Possiamo chiudere qua.